Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, stila un bilancio dei primi due anni e mezzo di amministrazione di centro-sinistra. Un bilancio più che positivo, secondo il primo cittadino. Tanto è stato fatto, ma tanto ancora c'è da fare per raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio mandato. Canfora passa ad elencare quanto è stato realizzato in termini di opere pubbliche. Io credo che il bilancio sia positivo per questi due anni e quattro mesi. Credo che sia un bilancio estremamente positivo perché se andiamo a quantizzare le opere pubbliche che abbiamo appaltato e quindi concluso e inaugurato, penso che sia sicuramente un bilancio positivo. Basta pensare a Piazza Marconi, basta pensare alla bonifica dell'ex discarica di via Brasigliano, basta pensare a Corso Vittorio Emanuele, basta pensare alla riqualificazione dello stadio Felice Squitieri, la tribuna coperta, insomma aggiungiamo ancora l'isola ecologica che lunedì 24 andremo finalmente ad inaugurare, quindi significherà altri regolamenti, altri soldi che risparmieremo, finalmente un colpo finale decisivo alle emigri di scariche abusive. Basta pensare alla riqualificazione di Rione Sodano e basta pensare alla riqualificazione di Rione Europa. Abbiamo consegnato i 24 appartamenti dell'IACP, abbiamo finalmente retribuito i cittadini delocalizzati che dal 1998, 5 maggio, avevano perso la propria casa, non l'avevano avuta né ricostruita né tantomeno erano stati localizzati, finalmente dopo 18 anni abbiamo anche risarcito questi cittadini.